e questo era solo un test pull e arriva Matteo Volcato i primi tre tiri solitamente sono dei tiri test sono dei test pull Stefano mi sembra alla manetta se li giri il rilevo della telemetria della nafta power team da sesto imolese Matteo Volcato il rilevo della pista finisce e qui facciamo sul serio pensa si sono portati anche un treno di gomme di ricambio e arriva! che spettacolo! e il fiato c'è lì sai quanto gasolio ci sta ancora lì Emilio? e sguisce da tutte le parti non bisogna toccare la linea bianca siamo usciti oltre i cento metri confermi? confermi Emilio? e guarda lì sei contento è stato tutto insieme e l'applauso della pooling arena procedura di carico del turbo Stefano Tonino alla manetta accidenti non riusciamo per un soffio il fischio c'è tentativo dentro la shutdown quindi fuoco alle polveri ma vediamo se con una marcia più corta e non era la marcia più corta probabilmente numeri piccoli su di giri il buon ferro italiano tutto è pronto bandiera verde su di giri e arriva la pressione e arriva Formentin hai visto il tradizionale arricchitore tenuto con la mano su di giri e nel fondo la pista finisce Officine Grandestine Backway il finale c'è tutta un'altra cosa rispetto a quello che abbiamo visto finora e non si libera il motore non si libera calma e serenità calma e serenità il suo Fordino tutto è pronto su di giri andiamo Accidenti l'abbiamo indolfato acqua un po' di acqua dappertutto lo mandiamo su pian pianino il fuoco è dovuto proprio all'anticipo un po' di acqua il fuoco il fuoco il fuoco l'acqua è dovuto un po' di acqua è dovuto l'acqua Può andare quando vuole Francesco Ferrario E il suo Black 2000 E arriva Abbiamo un brutto Brutto canto Brutto canto Accidente Per il Fordino Ok il motore in moto Tutto bene Ok 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 Non vi dico più niente Ok Ok E la pista finisce Bello dritto E' riuscito E' riuscito Emanuele A tenerlo Fai lo dritto Mi sembra E' a gioco E' riuscito E' riuscito E' riuscito Grazie a tutti. 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 e... 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 ... 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 ......